Il Comune di Nuoro deve annullare gli avvisi di pagamento per l'attari e la tassa sui rifiuti urbani e ricalcolare gli importi. È quanto chiede all'amministrazione comunale il capogruppo del PDL in consiglio, Pierluigi Sayu. A sostegno della sua tesi, l'esponente dell'opposizione cita gli esempi di persone che per lo stesso immobile hanno ricevuto due distinti avvisi di pagamento con importi diversi, pure cittadini che hanno ricevuto bollettini per appartamenti che non abitano da anni. Alcuni poi hanno visto la superficie della propria abitazione magicamente raddoppiare. Che non si tratti purtroppo di fenomeni isolati, lo confermano oltre alle imbarazzate ammissioni dell'assessore, scrive Sayu, le lunghissime file di sportelli del Comune con cittadini costretti a mettersi in coda già all'alba per ritirare il famoso numeretto. Per l'esponente dell'opposizione i nuoresi sono sottoposti ad un doppio disagio, quello di ricevere bollettini di pagamento sbagliati e quello di dover fare la fila per ottenere risposte dal Comune. Da qui la richiesta di azzerare la situazione è procedere al ricalcolo delle tariffe. Questo perché, sottolinea Sayu, non si possono scaricare sui contribuenti le inefficienze del governo cittadino e della macchina amministrativa comunale. Cosa fare poi, si chiede Sayu, con quei contribuenti che non si sono accorti degli errori negli importi definiti dal Comune e hanno pagato il tributo. Per l'esponente dell'opposizione l'amministrazione comunale deve intervenire, a meno che non voglia scaricare anche questa responsabilità sul governo di Roma, peraltro sostenuto dallo stesso PD. Molti cittadini in buona fede stanno pagando sulla base di calcoli sbagliati. Il Comune è ancora in tempo per procedere all'annullamento degli avvisi emesi, rileva Sayu. E alla compilazione dei nuovi importi, per chi avesse già pagato, dovrebbe considerare eventuali riduzioni da computare nel saldo che deve ancora arrivare. Per via dell'incapacità di chi governa, nuoro e centinaia di contribuenti saranno costretti a presentare il ricorso, conclude Sayu. Le associazioni di categoria lo hanno già annunciato e molti cittadini sono giustamente sul piede di guerra, avversati da una tassazione divenuta insopportabile.